Amici di EA Sports, gli stanti sacri che precedono il calcio d'inizio, l'attesa, tra poco l'arbitro fischierà il via, è una gara che promette di non deludere le attese, anche qualche schermaglia dialettica nel pre-partita, ma adesso ovviamente la parola aspetterà ai protagonisti in campo, anche se il clima contribuisce ulteriormente ad aumentare l'adrenalina di questo match. Sfira tutta da seguire qui su EA Sports, ancora un po' di pazienza e si va, si rinnova l'appuntamento con il grande calcio qui su EA Sports, oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Per Luigi Pardo vi saluta e vi dà il benvenuto assieme a Daniela Dani, Serie A team che si prende la ribalta con questo incontro, match tra Bologna e Juventus. È sempre un piacere essere qui in compagna tua e dei nostri amici a casa, sento delle vibrazioni positive per oggi, sono convinto che ci divertiremo. Froyler, va in porta, è arrivato subito il gol dell'1-0. Questo replay dell'azione di prima, ha eluso il pressing avversario trovando il gol con grande caparvietà e determinazione. Si gioca, Juve con un gol da recuperare, si attende adesso la risposta bianconera. Chiesa, evita l'avversario. Fa avanti della sua azione, la mette in area di rigore. Plovic, mamma mia cosa ha preso qui. Ma non ci credo Pier, ma come ha fatto? Chiesa, ha evitato un gol con questo tackle, pericolo scampato. Su per qui il portiere. Palla in area di rigore. Allontana la minaccia. Chiesa. Weah! Weah! E c'è la rete! Il pareggio della Juve! Il pareggio della Juve! Partita bellissima! Queste sono le immagini dell'azione di poco fa. La difesa guardava Pier, questa è la verità. Il gol preso è stata la logica conseguenza di una marcatura pigra. Per me il tecnico non sarà contento. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Tackle vincente in area. A pallone di uovo loro. Chiesa. Va via il proprio marcatore. Attenzione a Chiesa che è solo. Grande intervento che sventa un'occasione pericolosa. Difende bene palla con il corpo. Contrasto efficace. Ci sarà rimessa laterale. La tush. Ramo Freuler. Sale Meckertz. Chance per passare in vantaggio. Grande tackle che sventa il pericolo. Quasso Meckerny. Chiesa. Perde palla Chiesa. Posh. Ruba bene palla. Avanza palla al piede. Attenzione a Chiesa che è solo. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Entrata pulita. Il pallone è recuperato dai 16 metri. Sale Meckertz. Avanza palla al piede. Froyler. Ottimo intervento in copertura. Danilo. Bremer. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Meckerny. Chiesa. Tisca l'arbitro. Si chiude qui il primo tempo. La gara non è ancora finita ma intanto può comunque sorridere per la buona prestazione del primo tempo. Ha offerto un contributo importante alla causa firmando il gol del pareggio con cui si sono chiusi i primi 45 minuti. E sicuramente tra i più in forma dei suoi. squadra di nuovo in campo per il secondo tempo. Primo pallone della ripresa per la Juve. C'è il movimento senza palla. Chiamato in causa Rabiot. Può essere il pallone del vantaggio. Iniziativa sventata dal portiere. Palla messa in mezzo. Spazzano via il pallone. Interviene a lontana prima che sia troppo tardi. Pareggio che regge. Provano con il tiki-taka ad aprirsi un barco. La deviazione sul tiro. Opportunità dalla bandierina per trovarsi in vantaggio. Hanno l'occasione dalla bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra. Va direttamente in area. Arriva un altro corner. Calcio d'angolo battuto. Palla in mezzo. Spazzano via il pallone. Alexis Selemekers. Occasione! Li conquista la palla grazie a questo intervento. Federico Gatti. Si affaccia nella trequarti avversaria la Juve. L'arbitra segna il calcio di punizione per la Juve. Palla verso Miretti. Prosegue la sua azione. Chiamato in causa Miretti. Occasione per portarsi avanti. Watson McKinney dice di no qui il portiere. anche un'eseriva. Pace il tempo. Con il numero 22, Timedì. Entra con il numero 11, Filip Kostic. Palla per McKinney. Palla per McKinney. Contrasto efficace in area e pallone recuperato. Calafiori. Moro. Posizione irregolare rilevata dall'assistente. Teco l'efficace qui. Quasione McKinney ha il supporto dei compagni. Kostic. La gioca su Chiesa. Chiesa. Attento il portiere che sventa il pericolo. Remo Freuler. Taglia fuori sul pressing avversario. Aumenta la pressione. Vogliono il gol del vantaggio. Prova a andare. Potevano portarsi in vantaggio. Ma non avevano fatti i conti con i riflessi del portiere. Ha letteralmente evitato un gol fatto. E non poteva scegliere il momento migliore. C'è un cambio nelle palle del Bologna. Forze fresche per il Bologna. Alexis Selenekers. Tackle decisivo. Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di gara a caccia del gol vittoria. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Palla recuperata dal Bologna. C'è spazio per la ripartenza. Alexis Selenekers. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Miretti. Ecco Rabiot. Luzam Lovic. Palla per McKennie. Salva la porta ma non è finita. Kostic. E c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso a poco dal termine. Una voce gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbossare una razione. E Pierre non hanno tempo da perdere. Rivediamolo questo gol. Importantissimo. Che potrebbe valere la vittoria. Ed è arrivato nel recupero. Vedremo se la formazione avversaria avrà il tempo ma anche la forza per reagire. C'è il triplice fischio. Finisce con una sconfitta per la squadra di casa. Un solo gol di margine a dividere le due squadre. Testimonia l'equilibrio che c'è stato in campo. Hanno molato forse qualcosina nei momenti topici. Va detto eh questo. Però la squadra avversaria è stata un po' più brava a crederci fino in fondo. Ha giocato bene dando un contributo più che positivo alla squadra. E senza dubbio l'erroia del match. Ha firmato il gol che ha dato la vittoria alla propria squadra a pochi minuti dalla fine. Ciao.